La Virtus si riposa. Dopo l'1-1 nell'anticipo con il Cesena, il tecnico Baroni ha concesso due giorni ai ragazzi. Alla ripresa da valutare le condizioni del ginocchio di Mammarella, ma non dovrebbero esserci grossi problemi. E allora proviamo a fare una riflessione di carattere generale. Nelle ultime stagioni la Virtus, oltre a costruire bene le sue squadre, dal mercato invernale ha sempre avuto tanto, riuscendo a fare il classico salto di qualità. Nell'anno della promozione in B sono arrivati Sarno e Paghera, giocatori fondamentali. L'anno scorso piccoli e plasmati, anche loro determinanti per la salvezza. Ora si è puntato su Comi, che ha realizzato un gol capolavoro e ragazzo. Quest'ultimo, pur non avendo ancora i 90 minuti nelle gambe, contro il Cesena ha dato grande vivacità alla manovra offensiva. Penso di sì, comunque sì, ho cercato di fare il possibile, di muovermi tra la difesa, trovare gli spazi giusto per portare l'uno sull'uno contro uno. Penso di aver fatto discretamente. A proposito di cercare gli spazi, spesso e volentieri hai avuto anche l'occasione nell'uno contro uno di poter saltare l'avversario, però ti sei sempre un po' spostato verso il centro. Potevi forse insistere un po' in area, visto che comunque a Lanciano, lo saprai, non hanno ancora dato un calcio di rigore. Magari per fermarti poteva starci il fallo. Sì, infatti qualche volta è stato un mio errore, infatti ho puntato troppo verso il centro. Però io ho detto magari punto verso il centro per mettere la palla in mezzo, verso Comi, che di testa c'è, infatti c'è. Grazie. 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 Grazie.